Sapevate che Pikachu, il Pokémon più iconico di tutti, non è stato ideato da Ken Sugimori? Il leggendario disegnatore di Game Freak è sì il creatore di quasi tutti i primi 251 mostri di prima e seconda generazione, ma non di tutti. Oltre al già citato Pikachu, non sono suoi design delle tre incredibili bestie leggendarie di Johto, Raikou, Entei e Suikun, e perfino quello di Mew. Ricordatevi di seguirmi per altre curiosità sul mondo Pokémon.